Una conferenza stampa convocata in consiglio regionale dai rappresentanti del partito Alleanza Sardegna per presentare il proprio progetto politico alla luce del risultato delle ultime elezioni regionali. È stato un test importante anche perché non era sicuramente una partita facile. L'accordo con il PLI ci ha consentito di raggiungere questo risultato. Le prossime competizioni elettorali saranno appunto le amministrative. Sono 27 i comuni che vanno al voto, tra i quali Cagliari, Sassari e poi Alghero, Monserrato e Sinai che sono i comuni oltre i 15.000 abitanti. Noi saremo presenti in tutte le liste o con il simbolo alleanza Sardegna o con dei candidati dove non ci fossero i simboli ma ci fosse solo la lista del candidato sindaco. Un movimento ha dichiarato Stefano Schirru, consigliere regionale in pectore per chi non si riconosce negli altri partiti. Onorevole, lei ha dichiarato che la vostra sarà un'opposizione costruttiva. Cosa intende? Assolutamente perché dobbiamo fare gli interessi dei sardi quindi andremo a proporre una serie di norme e distanze che provengono dalle richieste e dalla volontà dei cittadini. Andremo a rappresentare tutti i territori della regione Sardegna. Vogliamo essere la voce di tutti quei comuni che non hanno dei rappresentanti in consiglio regionale. Già nelle prime sedute noi depositeremo le leggi quindi un voucher per tutti gli imprenditori che sono stati danneggiati nei loro comuni dei lavori pubblici e poi anche un fondo di rotazione per dare la possibilità a tutti coloro che vogliono acquistare una casa e non hanno la possibilità di dare il famoso acconto del 20% di poter intervenire come regione e poter dare una mano ai giovani e ai meno giovani perché il problema della casa è un problema ormai che stiamo subendo da anni di cui si parla tanto però è giusto intervenire e dare la possibilità a tutti di avere una casa perché la casa è un diritto.